è gratuito, facile e sicuro. La prima cosa da fare per entrare nel mondo di Vegas Club è compilare il modulo di registrazione sul sito www.lottomatica.it Per darti il benvenuto nel casino online numero 1 in Italia, Vegas Club ti offre la possibilità già in fase di registrazione di scegliere un bonus per iniziare subito a giocare. Scegli il bonus benvenuto, casino 300 euro durante la compilazione e alla prima ricarica riceverai fino a un massimo di 300 euro di bonus che potrai utilizzare in tutti i giochi di Vegas Club nelle modalità Instant, Download e Live. Terminata la registrazione dovrai controllare la tua casella di posta elettronica per confermare il processo. In un clic così sei riuscito ad aprire un tuo contogioco l'ottomatica confermato e potrai iniziare a giocare in tutta sicurezza. Cosa aspetti? Registrati subito e buon divertimento!